Eccoci qui come state un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi lasciate un bel like iscrivetevi qui attivate la campanella numerosissimi mi raccomando non perdete il video con Cristiano Ruiu questa mattina su Milanello mi raccomando ma prima passiamo insieme questi due minuti come ragazzi abbiamo commentato ieri sera tardi l'assenza di Zlatan Ibrahimovic in quella di Milanello del mondo Milan ecco ieri il tentativo di ricompattare l'ambiente di rigenerare la squadra di chiedere una svolta di svoltare una volta per tutte è stato diciamo così soltanto esclusivamente assegnato a Paolo Fonseca Fonseca che ha detto sostanzialmente pensiamo al futuro possiamo far bene serve un cambio di passo eccetera 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 io dico è ovvio che lo faccia poi l'allenatore però ragazzi questo allenatore lì da qualche mese perché questa volta dovrebbero ascoltarlo e le altre volte non lo hanno ascoltato cioè è ovvio che Fonseca non sia più non sia stato forse mai in grado di avere un ruolo autorevole nei confronti di buona parte di questo gruppo e quindi vi chiedo perché da domani dovrebbero ascoltarlo perché ieri ha detto così quante volte l'ha detto in questa stagione purtroppo è anche un po' uno un po' molle e io dico lasciato ancora una volta solo a se stesso solo con se stesso solo perché un conto se magari si presenta anche Ibra che a me non piace proprio però può essere un elemento di di cambio invece no quando verrà cambiato se verrà cambiato ricordiamoci che è stato lasciato solo anche in questi momenti un momento cruciale dopo una sconfitta come quella con la Fiorentina dopo delle voci eccetera solo 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 come una piantina che cresce nel nel prato di Milanello questo è mi lascia anche un po' di tristezza però vi chiedo perché da domani le cose dovrebbero cambiare perché ieri Fonseca ha detto così no good commentate lasciate un like iscrivetevi qui ditemi che ne pensate numerosissimi un abbraccio a dopo grazie grazie